della qualità di sindaco di questa bella comunità del 158esimo comune della provincia di Salerno esprimo un grazie, un grazie a quanti questa mattina hanno voluto rendere omaggio con noi all'onor di patria, dobbiamo riconquistare questo concetto dell'onor di patria mi auguro che dalla comunità di Bellizzi così nel resto d'Italia possa aggiungere un messaggio e un grazie alle nostre forze armate che sono, ripeto, un esercito di pace e di solidarietà così come recita l'articolo 11 della Costituzione che l'Italia ripudia la guerra e si impegna con gli altri paesi e nel mondo a interventi di pace e di solidarietà io credo che vorrei ringraziarvi e abbracciarvi tutti ma proprio per virtù di non rubarvi molto tempo io per un momento però chiuderei gli occhi e penserei ai nostri comilitoni che nel conflitto del 15-18 hanno vissuto dove ci sono stati oltre 11 milioni di morti e gente che ha lavorato e si è impegnata per noi per darci la pace quindi un po' d'acqua che stamattina ci riporta anche allo spirito del sacrificio io ne approfitto per ringraziare naturalmente chi insieme a me